Nel quartiere Boschetto di Cremone, residenti si preparano a vedere realizzato un progetto atteso da oltre 5 anni, la nuova pista ciclabile. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un totale di 830.000 euro, i lavori sono quasi completati e l'inaugurazione è prevista tra poche settimane. La pista ciclabile collegherà il quartiere alla Fiera di Cremone al centro città, offrendo un'importante via di collegamento per i ciclisti. Il presidente del quartiere, Gianni Tamburini, sottolinea come l'iniziativa sia stata fortemente voluta dai cittadini. Nonostante l'entusiasmo generale, ci sono alcune perplessità tra i residenti, non tutti convinti dell'efficacia del progetto. Non è molto convincente come lo fanno, è giusto, perché la bicicletta è quella che è, però secondo me è più pericolosa adesso che prima, perché è stretta la bicicletta, vanno un po' in mezzo alla strada. Poi non è molto comoda, è pericolosa anche per le macchine che escono, che entrano, tutte quelle robe lì. Io sono uno che va in bicicletta tutti i giorni e le conosco le piste ciclabili, però l'hanno fatta, la teniamo e è finito. Potrebbe essere un'opera che andava fatta magari solo da una parte, la ciclabile, non sia andata che ritorna, solo da una parte e allora si avrebbe avuto un senso. Lei la userebbe per andare in fiera? L'ho già anche un po' usata, adesso è praticamente realizzata, per cui penso che la userò sicuramente. Io uso la bici tante volte. Le persone che le conosce la userebbero? Ah sicuramente, sì sì, mio padre ma anche tanti altri che usano la bici qui al boschetto. I lavori riprenderanno dopo la pausa estiva con la gettata finale di cemento in vista della cerimonia di apertura con la partecipazione delle istituzioni locali.